Andiamo su Maria Sofia Allora Legge 106 Ma io non per lei, per questa cosa Legge 106 Milk is murder Quindi il latte è un'uccisione Ah vedi ha scelto la lupo Per me è un'uccisione proprio tutto Cerebrale Murder è assassino, no? Giusto? Omicidio, no? Allora intanto mi fa ride perché effettivamente sia io che Dave Avevamo letto Hulk is murder Hulk Diciamo Già dal fatto che abbia iniziato questo post Con una scrittura in inglese Già mi dà delle idee Che per ora terrò per me Voglio un attimo capire meglio Ma penso che tu già mi hai capito che cosa voglio dire Un tentativo espansionistico Che pure è legittimo in realtà È super legittimo Ma infatti non ho detto che sia Di là delle modalità Usciamo dalle modalità È un gesto È un gesto È un gesto Lavorativamente efficace Che è Slegato da quello che è il post È buono Intento ci sta, no? Che dici Anche perché Per quanto riguarda il tema dell'ambientalismo Dell'animalismo, no? Chiaramente se ne sta parlando su scala mondiale Quindi è una roba che effettivamente Sì, sì È sulla bocca mondiale Comunque questa mattina Tre animali ribelli Hanno svolto un'azione diretta Non violenta Ai musei capitolini di Roma Non ho capito Animali come esseri umani Animali Cioè Lei fa parte di questi tre animali Ah, ok È un animale ribelle Ah, che sembra animale Non capisco Scusate Ma sanno loro che hanno l'audio doppio Se hanno due live accese Ti pensi? Ma pure mo' è doppio Dio animale Pure mo' è doppio Secondo me è perché stanno a urlare No, secondo me è perché stanno a casa Capito? Tipo il fratello in camera Ah, il fratello in camera Bravo, eh Poi il papà si sta a vedere la live No, sì Quanto è assurdo scandalizzarsi Per una persona senza vestiti E non per il modo in cui gli animali Vengono uccisi e sfruttati Allora, Maria Sofia Io voglio dirti una cosa Sono d'accordo con molte tue battaglie Però qua hai fatto un errore madornale Ma che cazzo sono questi, Valetti? Cioè Metti il piedino Tu E non doni alla causa L'unica porzione del corpo Importante Eh sì, ma sai che secondo me Per paura di acciaccare La cosa che devi acciaccare Scarpe è più una tutela Tipi zoccoli La paura? È come se lei in quel momento La paura? È come se lei in quel momento Stava zoccolata Cioè senti i cavalli, no? Perché gli mettono i zoccoli La stessa funzione delle scarpe Quanto è assurdo scandalizzarsi di più Per delle ragnatele su una statua Che per la crisi climatica ed ecologica Vabbè qua non ci ripetiamo E' lo stesso discorso che avete fatto l'altro giorno Sua roba Le ragnatele Del Che era? Del lupo La gioconda La lupa capitolina Non è solo uno dei simboli di Roma Cioè una delle città più importanti al mondo Grazie per averlo specificato Ragazzi Mo' vi mando a fanculo tutti, eh? Cioè Ma sei agghiacciante addirittura Cioè sì Infatti aspetto il commento dei morti Grazie Tra l'altro io non mi sono espresso sui morti Però lei mi ha messo nell'equazione, no? Perché voi li sono qua Io non ho detto una parola Stavo in collegamento Sono stato proprio zitto Assolutamente Guarda, una cosa allucinante Poi quando non dico un cazzo Me lo metto in mezzo Ma è anche la metafora perfetta Della fiaba Che ci raccontiamo Da generazioni Ovvero Che gli animali Non umani Sono felici Di produrre latte Per gli uomini Anzi no Per noi umani Quando in realtà L'industria Casearia E la Zootecnia In generale Li svutta E uzzide La statua Equestre Di Marco Aurelio D'altro canto Rappresenta proprio La cosiddetta Superiorità Che pensiamo di avere Come specie Nei confronti Delle altre L'imperatore Marco Aurelio Emblema del potere Letteralmente Cavalca un cavallo Per affermare il suo dominio E lo utilizza a suo piacimento Per i suoi scopi Beh Tesoro Direi De sì Cioè Stiamo a parlare Di Marco Aurelio Sai com'è Ma pure le persone Cavalcava No Vabbè Per carità di Dio Capisco che in effetti La macchina Sarebbe stata più comoda Ma anche l'astronave Le macchine volanti Quello sì Per carità Però vabbè Ma la cosa interessante Ovviamente qual è Caro Marco È che la situazione Secondo lei E in parte Si può anche essere d'accordo Non è cambiata Da un punto di vista Della percezione Di superiorità Specista Che è anche vero Ma è super vero Parliamoci chiaro Parliamoci chiaro Al di là della roba Che uno può dire cringe O non cringe Ma però è vero Quello che dice È vero Io più invecchio Più divento animalista Ma c'ha ragione La sua causa È oro È più che altro Come Il problema Non è la causa Ragazzi Il problema Sta nella sua comunicazione E di quanto lei Spesso e volentieri Metta in risalto Più lei Che la causa Specie nel vantaggio Che vorrebbe In termini di visibilità E di successo È quello il problema Non è la causa Anzi La causa Io la sposo Più che volentieri Pur non facendo un cazzo Siamo superiori infatti Non lo so C'è una proposta C'è una proposta Alcuni Chiediamo al governo Lei mette in risalto Lei Non la causa Sempre Perennemente Sono d'accordo Specie quando Cioè L'ha messo pure lei Che vuole Sta sotto i riflettori Che ha bisogno Di attenzioni E sta cosa Purtroppo Ahimè È un problema Per le sue Buone cause Però per la causa Lei dice Infatti la risposta La risposta è quella Si ottengo più visibilità Io Che però vado a veicolare In funzione della causa Cioè diciamo che Faccio da portabandiera Per questo messaggio Vabbè un po' E allora Facciamo una bella beneficenza Su Twitch Per fare 20.000 sub Greve Cioè che ti devo dizi Allora pure noi Ah sì l'hai droppata Bella dip Saremo intoccabili Però perché non lo facciamo Scusami No regà Cioè io so serissimo Vabbè ma Infatti Cioè io Ti posso Voglio che faccia altri esempi Cagliore no È ok Cioè regà Vabbè Comunque No Il fatto qual è Che Posso anche capirlo Nel senso che alla fine Ci può stare Diventare Portabandiera Quello che dici tu È un aspetto interessante Cioè Vendiamo le magliette Vogliamo dire Che diamo una parte In beneficenza Ai bambini di un ospedale Per il nuovo merchandising Del Cepro Podcast Secondo me lo potremmo fare Però noi lo stiamo a fare Per la causa Secondo me lo potremmo fare Capito Cioè nel senso Inizialmente Noi ne traiamo vantaggio Però è per la causa E tanto non bisogna neanche Specificare quale cifra Quindi possiamo fare pure Un bonifico Dei 10 euro Volendo Però comunque È vero Forse noi a volte Se il guadagno Unetto delle magliette Che ne so Sono 3.000 euro Tutte quante 10 euro Come somma Ce sta Se lo scrivi chiaramente 50 dai Sarò io Che in fondo Sono malfidato e cattivo Ma purtroppo Vedo il marcio Soprattutto Nelle cose buone Le persone che magari Sono un po' tipo me Che non gliene frega un cazzo E che non devono E che non hanno bisogno Di sembrare più buone Di quello che so 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 quelle che mi fanno Sta più tranquillo Invece Ste cose qua Trasmettono sempre Un marcio di fondo Coperto Da quello che poi Io vedo Cioè La voglia di trarre Vantaggio personale La causa è sempre In secondo luogo Allora Almeno a me sembra così Poi non lo so Magari sbaglio io È un discorso complesso Intanto ci ho appena ripensato Sì il bonifico Lo faremo di 10 euro Di 50 Ma quando leveranno Le commissioni Perché il cazzo E fa more bonifico Da 50 euro Con 5 euro di commissione Quindi dopo sì No però Allora è un discorso complesso Perché Parlando specificatamente Di Maria Sofia Io l'ho anche conosciuta Extra live E Lei crede Almeno L'idea che mi sono fatto io Poi magari non è così Però la mia opinione È che lei crede davvero A queste cose qua Sì sì Ma io questo Non lo metto pegnati No per dire che quindi L'intento No no Ma non lo metto in dubbio Io questo L'intento diciamo Non lo vedo Cioè lo faccio Per diventare famosa Certo c'è ovviamente Una voglia Un egocentrismo Evidente Che penso abbia riconosciuto Anche lei L'unico problema Secondo me in termini pratici Esattamente come il discorso Da beneficenza Quante volte ho detto Alla fine se fai del bene L'importante è il fine No? Non la comunicazione Fuorviante O truffaldina Però Se fai una roba Che comunque contribuisce Una cosa virtuosa Ci sta che ti fai anche pubblicità Banalmente Per quanto riguarda Con le dovute distinzioni Spiegando bene Quello che fai Nel caso di Maria Sofia Potrei dire Alla fine Lei riceve Della notorietà È egocentrica Però potrebbe far del bene Qual è purtroppo Il problema? Il problema è molto simile A quello che noi Evidenziamo in passato Ed è una cosa Che ho detto anche a Maria Sofia Nella famosa live Con Andrea Dell Che Come ai tempi Delle femministe Purtroppo In caverna 2020 2019 Purtroppo Alcune Ancelle Di queste battaglie Molte legittime Comprese alcune femministe Purtroppo Diventano Insopportabili E fanno un danno Alla causa Che è una cosa Che abbiamo detto pure Per esempio A quelli di ultima generazione Che tu dici Cazzo Sì Cioè io sono d'accordo Che bisogna fare qualcosa In termini di ambiente In termini di Animalismo No? Oppure ecco Lotta di Per Alle disparità No? Femminismo E cose del genere Però Purtroppo Alle volte Si crea un danno Perché Scaturisci Una tale frustrazione All'interno Dei contesti Che invece Dovresti accogliere E fai peggio Cioè addirittura Gente dice Sai che c'è Me sta così sul cazzo Sta cogliona Che a maggior ragione Me mangia carne E magari manco ascolta I discorsi sensati No? De mo' ad installa Sgozzo un maialino Capito Magari non così sadico Però nel senso Si disinteressa Anche A delle informazioni Che potenzialmente Potrebbero arrivare Cioè Non so come dire Spegne I Spegne i bottoni Che potrebbero ricevere Delle informazioni No? Utili Questo Intendo io Si ottiene l'effetto contrario Sì Noto questo Sì ma anche perché Il discorso che sta a fa Davide Non è rivolto a persone Tipo magari noi Che Magari ragioniamo un po' De più Lo hai fatto prima L'esempio corrondo Ho diviso musica E quello che fa Persone magari Un po' Lì Italiano medio Ha sicuramente Molto di più Sta percezione Che ha analizzato Davide È fattuale Ragazzi È poco da fa Già stato provato Lei è odiatissima Molto Ma rivesti Questo però scusami Questo c'è una macchinetta In mano Fagli le foto A coglione Ma fai le foto Coglione in senso Ovviamente amorevole Poi tanto non c'è identità Non voglio Parla male di nessuno Però dico C'è una macchinetta In mano Ma fai le foto Ma che ti metti E perde tempo A chiacchierà Secondo me Ne è andata De mezzo La sua integrità No no Per carità Agli occhi suoi Avrà visto una ragazzina Agli occhi suoi Che un signore Però capito Ma sì però Cioè Fai No ma fai delle belle foto Perché Non era un giornalista Adesso voleva fare foto Secondo me Ah dice Così un visitatore Però però Scusami Allora qua mi incazzo io E qua invece vado A favore di Maria Sofia Anche se non l'intento suo No Esattamente come il discorso Che facemmo anche un po' Con la roba di Alex Agli Uffizi No Al di là Di come la si pensi Giusto Sbagliato Modalità sbagliata Come abbiamo anche detto Lì però c'hai Un momento Che può diventare Un'opera D'arte istantanea O comunque Un momento Storico Ok Catturalo Cazzo no Ma poi è tutta la nudità Che c'è O sbaglio Cioè sono tutte statue nude No ma scusate A livello A livello artistico Non è interessante Come cosa Anche se uno detesta Maria Sofia Oppure è super pro Diciamo La distruzione Del mondo Vegano No Però Secondo me È interessante Come cosa Fotografo Ma quale storico Dio Ragazzi Impossibile Fare una riflessione Senza Vabbè 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 Io non devo dare Queste perle Ai porci Capito No no Ma va bene così Ma pure Faccio un altro po' Di piegamenti Faccio un altro po' Di spinte Che tanto va bene così Sparateci un'altra Cinquantina di sab Che tanto va bene uguale Mangiamo uguale Spezzando un'altra lancia A favore Sì Spezzando un'altra lancia A favore Impossibile fare una riflessione Che è antipatica Tutti Tutti un po' La odiano Però c'è da dire Che gli attivisti Sono sempre stati odiati Certo Anche quelli che poi Nella storia Hanno avuto ragione